Ciao, sono Gerardo Paterna e anche quest'anno parteciperò a Real Estate Awards, l'evento più atteso dell'anno per il settore immobiliare. Sarà una giornata fatta di incontri, di conoscenze, di approfondimento. La tua partecipazione a questo evento renderà ancora più speciale questa giornata, proprio in un momento in cui c'è bisogno di avere più visibilità, coesione, qualificazione. Sarò anche tra i moderatori delle tavole rotonde e avrò modo di confrontarmi con alcuni operatori del settore immobiliare creditizio. Sarà per me un piacere portare le tue domande sul palco, quindi se lo vorrai potrai darmi qualche suggerimento commentando questo video post. Mi raccomando allora ti aspetto il 10 dicembre al Real Estate Awards. A presto!